Amici sportivi bentornati, ho visto la partita, ve l'avevo promesso che questo derby non me lo sarei perso, un po' perché sono fans di Nicola, cioè quando io nei pronostici ho messo che il pronostico migliore era X2, molti di voi mi hanno scritto ma come, impossibile, invece era da 2, perché una squadra che gioca contro la Juventus in quel sistema là non può giocare diversamente, cioè la mentalità ha dato a Nicola in pochi giorni e io aggiungo anche, rientro degli infortuni, perché comunque Andrea Azzoli aveva fatto lo stesso percorso all'inizio quando era subentrato, per dopo perdersi con tanti paregi, sconfitte per un gol, però Nicola ha assemblato tutti e soprattutto la squadra segna, 3 gol al Monza, ha segnato 2 gol nella partita, ha segnato un altro gol con la Juventus, ne ha segnato in altro uno la scorsa settimana, ne ha fatti 3 oggi, cioè per una squadra che aveva fatto solo di 13 reti si trova ad averne fatte 8 nel giro di 4 partite, 5 e soprattutto fa 3 vittorie e 2 pareggi, questo vuol dire che raggiunge 4 a 25, è veramente, ma più che altro io ho la serenità con cui gioca l'Empoli, ora passiamo e soprattutto in mezzo al campo con Kovalenko, pochi cambi, perché comunque è vero che è andato via il giocatore più fantasista, che comunque tutto l'anno era infortunato, ma i giocatori come Young che quando entra spacca la partita, poi l'ex Spezia che mi fa il gol partita, un giocatore che comunque sulle palle alte è sempre stato forte, la difesa sempre ben messa in campo, Marini in mezzo al campo che riesce a gestire tantissimi palloni, Cambiaghi, comunque è un giocatore che non si ferma mai, è un motorino continuo, è un giocatore che fa fatica a fare gol perché comunque spreca tante energie, ma si muove da destra a sinistra, aiuta il centro campo, è un giocatore veramente completo e poi la mentalità che viene data a questa squadra qua e gioca con una facilità incredibile e chiaramente ogni tanto vengono i problemi difensivi, il rigore causato è un'ingenuità, il colpo di testa di Ferrari nel pareggio è un'ingenuità, bravo Ferrari, però allo stesso tempo andiamo a valutare la squadra di Nicola, è una squadra che adesso può giocare con chiunque, è imbattuta da quanto è arrivato Nicola, cioè bisogna dare un premio a questo annatore qua, non può essere un caso che prende una squadra del Torino tempo fa e poi prende altre squadre, ha preso la squadra calabrese, mi prende la Salernitana, adesso mi prende l'Empoli, cioè ragazzi questo annatore vive di calcio, cioè immagazzina benissimo a differenza di Dionisi, io non posso parlare male di nessun annatore perché sono annatore, però io l'ho detto subito Dionisi, la preparazione fatta quest'anno è stata una preparazione azzardata, perché tu parti a mille perché inizia il campionato agosto, hai cercato di mettere i punti in cascina e poi le hai perce tutte, sei ultimo in classifica, ma da tanto sei ultimo in classifica, se togliete il mese di agosto e due settimane del mese di settembre, dopo che ha fatto la vittoria con Inter e Juventus, che erano imballate da preparazione, fisiche, erano imballate, infatti partivano bene per dopo crollare nel secondo tempo, e tu fai bene ma dopo non hai in cascina niente e il giocatore ha iniziato a perdere i giocatori, Berardi non è mai rientrato e soprattutto io non voglio dare neanche colpa al natore, al direttore sportivo che ha con superficialità creato una squadra disunita. Allora andiamo nel dettaglio, due giocatori larghi, Laurentier non ha più azzeccato una partita dopo i gol fatti con la Juventus, non è azzeccato una, sta largo, non rientra, aspetta che Rivela Berami, ex giocatore dell'Empoli, sembra un giocatore veramente con poca personalità, ma spostolo più centrale, fallo giocare più trequartista, continui a giocare con questi due centrocampisti, tutte le squadre si mettono a tre e cosa fanno? I fraseggi muoiono lì e soprattutto quando tu riesci a fraseggiare, adesso è ancora più lenta la circolazione perché hanno paura di sbagliare, ma ogni volta che perdono la palla hanno in bucata centrale, poi con questa difesa, con due giocatori, con solo i due centrali, tutti i larghi, ci sono delle praterie, c'è stata un'azione dove ancora sull'1-0, o sull'1-1, scusatemi, Young era entrato nel secondo tempo perché al primo tempo veramente l'Empoli giocava con disinvolture impressionate, veramente, e quindi voglio più valutare nel secondo tempo dove ha tolto il centrocampista, adesso l'altro ragazzo rumeno che giocava nel Frosinone, ha inserito appunto Berami, però appena perdeva palla il centrocampo, la difesa non chiude così, sta così in linea, i due difensori stanno in linea così, lasciate che manchi Erlic, non c'entra niente, Ferrelli è un giocatore di esperto, gli altri stanno torse, stanno tutti larghi, si è aperta una prateria dove Male ha sbagliato di dare un appoggio semplice, semplice, a Young che sarebbe andato in porta, questi sono errori tattici incredibili, io dico che tra mister Nicola e mister Dionisi c'è un abisso dei due allenatori, di esperienza e conoscenza della Serie A, perché Nicola, che comunque ha fatto una vita da calciatore, Dionisi invece ci ha fatto le ossa, e quindi tutti i due allenatori in maniera diversa vanno super rispettati, ma Dionisi si è fatto grande con una squadra già forte, l'Empoli di suo, ma già quando era a Venezia faceva questi errori, e si sono visti lo scorso anno, ma avendo a disposizione Berardi e altri due o tre giocatori che il direttore sportivo non ha dato quest'anno, ha solo voluto pensare a incassare e prendere giocatori sconosciuti che comunque è inutilizzarsi intorno, valgono quel che vale una squadra di Serie B, e giocando così c'è il rischio di fare la fine della Sampdoria, che giochi anche bene in Serie B ma non vieni su, questo che mi lascia perplesso. E quindi la domanda che mi sono posto io è, mister Nicola crea una squadra per vincere la partita, Dionisi gioca per fare gioco, ma alla salvezza non bisogna iniziare a pensarci, perché comunque è da novembre che non fa punti Sassuolo, ha battuto la Fiorentina, ha fatto due pareggi tutte sconfitte, e quella vittoria meritata comunque, per il primo tempo fatto e per l'orgoglio dato, era condizionata dal maltempo, ed è una Fiorentina che veramente ha sbagliato il rigore, ha sbagliato l'impossibile, e però ha giocato male quella partita alla Fiorentina, e nonostante questo ha avuto tante occasioni. Quindi capite che è una squadra che non ti dà, cioè prende due, tre gol a partita, e se tu non mi metti una pezza in mezzo al campo, la prenderai anche le prossime partite. Quindi io mi auguro per i tifosi di Sassuolo di cambiare l'atteggiamento, ma rischia di essere realmente tardi, questa partita tu non dovevi perderla. Sei stato sfortunato, perché nel secondo tempo una reazione c'è stata, prendi gol poi all'ultimo secondo, però questa condizione te la sei creata tu, perché tre volte è andato in vantaggio l'Empoli, e tu devi creare tu i presupposti di andare in vantaggio, non recuperare. I giocatori ci hanno messo tutto quello che potevano fare, quindi non è questa partita che io vado a toccare le corde della squadra di Mister Dionisi, sono tutte le altre partite che state giocate così, tanto per giocarle diciamo, perché tanto, comunque siamo il Sassuolo, in qualche maniera ci salviamo, no, non funziona così il calcio. Per cui io faccio un grande applauso alla squadra di Nicola, vi invito ad andare a vedere gli highlights, è una sintesi un po' più ampia per capire come Nicola mette le squadre, perché chi vuole dirmi che Nicola è difensiva, vi faccio i conti, con una squadra che non ha un attaccante, adesso sono rientrati alcuni giocatori per cui staremo un po' a vedere, però voglio dire, in assenza di Caputti, in assenza di giocatori infortunati, ha trovato in 5 partite in cui lui gestisce, ha trovato 12 gol, e sono tantissimi, quasi il doppio di tutti i gol che non aveva fatto prima. Allora, se tu tieni un baricentro basso e accompagni con 4-5 giocatori, ma tieni un'ossatura con Malè e Biraghi che si muovono un po' dappertutto, fanno d'accollante con gli attacchi e con gli esterni e rientrano, con una difesa ben piazzata che non si mette quasi mai in linea, e che ha i suoi difetti, comunque, si sono visti nell'azione del rigore e nel gol, ma che comunque viene coperto da un centrocampo stabile, con un uomo davanti alla difesa, guardate cosa ha portato. Se Sassuolo non crea questi presupposti qua, rischia veramente la retrocessione. Questa è stata la partita, vince, secondo il mio punto di vista, abbastanza meritatamente l'Empoli, ma non solo per i gol fatti e che hanno sempre portato in vantaggio la squadra di Nicola, ma perché è arrivata questa partita con le condizioni giuste per provare a vincere, perché non è facile andare a Sassuolo e vincere. Poi si è stato fortunato, tanto fortunato perché segna la fine, però si è vista la tranquillità di una squadra contro un'altra squadra che c'è una tensione. Poi io vedevo il mister che quando, e qua concludo il video, che parlava con i giocatori di cercare di allargare il gioco, ma tu hai perso un minutaggio, con Bairami e l'Orientè, larghi, che non venivano mai serviti. Il servizio devi fare con un giro palo, magari fatto a difesa, i difensori che vanno in sovrapposizione. Lui lo sa queste cose, non sto parlando a lui, sto parlando in generale. Quindi perché non mettere subito un trequartista, una seconda punta, come ha fatto nel secondo tempo? Cioè preparare la partita in maniera diversa. Mi sarei aspettato questo. Mulattieri, in poche parole, Mulattieri secondo me doveva giocare, e Volpato doveva restare in campo. Dovevi giocare con Pinamonti, Mulattieri e Volpato. E poi rinforzare il centrocampo, lasciare magari un esterno libero, un terzino che fa tutta fascia, metterti a specchio un 3-5-2 e forse questa partita con questo 4-2 tutto portato all'attacco, lasci troppo spazio e questo è quello che vedo io. Ora aspetto i vostri commenti, però ragazzi Sassuolo rischia veramente tanto. Mi dispiace per Mr. Dionisi, perché credo che in questo momento abbia veramente difficoltà a far capire cosa vuole lui, però sono veramente contento per Mr. Nicola, perché è un attore che a me piace. non dico che mi ispiro un po' a lui come modo di allenare e come mettere in campo le squadre, però da lui io ho un'idea chiara di quello che vuole. È un attore che mi fa capire subito quello che vuole e io mi trovo più in sintonia con Mr. Nicola, a cui io faccio i miei sentiti e complimenti all'Empoli e al presidente Corso, che l'ho visto gioire finalmente dopo... anche perché era un derby ben sentito, molto ben sentito. Ciao a tutti!